Siete alla ricerca di un casco GT integrale che sappia coniugare qualità e prezzo, chiaramente senza farvi spendere una fortuna? Beh, allora forse il casco che fa per voi potrebbe essere lui, l'Exo 491 di Scorpion Sports. E allora andiamo a conoscerlo in dettaglio nell'unboxing di oggi. Scopriamolo insieme! Exo 491, le impressioni a caldo di questo integrale GT di fascia medio-bassa, almeno per quanto riguarda il prezzo naturalmente. Comfort direi assolutamente buono, con questi interni avvolgenti ma morbidi. Il funzionamento del visierino Speedview retrattile che si aziona tramite la levetta qui sul lato sinistro direi che è assolutamente buono. Non dimentichiamo l'aspetto sicurezza che è garantito dal blocco, dal sistema di blocco della visiera qua e soprattutto dai dai due piccoli laccetti rossi che permettono di sfilare i guanciali in caso di incidente. Insomma, tutta una serie di caratteristiche, quelle dell'Exo 491 che lo configurano come un ottimo GT con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. La calotta dell'Exo 491 è realizzata in elementi policarbonati avanzati di ultima generazione e ha risposto positivamente alla recente normativa sulla sicurezza, la ECE R2206. Quanto alle prese d'aria sono tre. Queste due esterne e poi c'è quella centrale che ha due opzioni di apertura. Naturalmente non manca l'estrattore al posteriore così che l'aria possa entrare da davanti e uscire da dietro. È dotata di predisposizione per il sistema Pinlock Max Vision, mentre il visierino retrattile Speedview è dotato di sistema antiappannante su ambo i lati. L'Exo 491 è dotato di interni Quick Week C nuovi e sono traspiranti e lavabili. All'interno troviamo anche i cuscinetti Quick Fit che permettono di inserire gli occhiali da solo o da vista senza problemi. Completa la dotazione dell'Exo 491 anche il deflettore nasale soffice e smontabile e il sottovola e neoprene ammovibile. E poi cos'altro c'è? Beh, chiusura con cinturino a regolazione micrometrica e siamo arrivati al punto di calotte e taglie. Tre sono le calotte E8 le taglie dell'Exo 491 dalla WXS alla S, dalla M alla L e dalla XL fino alla XL. Il peso? In taglia M di 1540 grammi. Lo Scorpion Exo 491 ha un prezzo di 139,90€ per le versioni monocolore, ma pensate bene c'è anche la versione replica Fabio Quartararo a 179,90€.